«Leo! Per il divino Efesto!» esclamò Leo. Il sentiero si apriva nel più bel giardino che avesse mai visto. Non che avesse trascorso molto tempo nei giardini, ma cavoli! A sinistra c'erano un vigneto e un frutteto, alberi di pesco con frutti di un bel rosso dorato che emanavano un magnifico profumo sotto il sole caldo, viti accuratamente potate e stracariche di grappoli, pergolati di gelsomini in fiore e un mucchio di altre piante di cui Leo non conosceva il nome. Sulla destra c'erano settori ordinati di verdure ed erbe, disposti a raggera intorno a una grande fontana zampillante con satiri in bronzo che sputavano acqua nella conca al centro. In fondo al giardino, alla fine del sentiero, una grotta si apriva nel fianco di una collina erbosa. In confronto al bunker 9 al campo l'entrata era minuscola, ma a suo modo era comunque impressionante. Su entrambi lati la roccia cristallina era stata scolpita a formare scintillanti colonne greche, sulla cui sommità era inserito un palo di bronzo che sosteneva tende di seta bianca. Il naso di Leo fu assalito da aromi squisiti, cedro, ginepro, gelsomino, frutta ed erbe aromatiche. Ma fu il profumo che proveniva dalla grotta a colpire la sua attenzione. Spezzatino di manzo? Possibile? Il figlio di Efesto si avviò all'entrata. Come avrebbe potuto trattenersi? Si fermò quando vide la ragazza. Era in ginocchio nell'orto, di spalle. Scavava come una pazza con una paletta, bofonchiando fra sé. Le si avvicinò di lato per non coglierla di sorpresa. Era pur sempre munita di un attrezzo appuntito. La ragazza continuò a imprecare in greco antico e a menare colpi al terreno. Aveva granelli di terra sparsi sulle braccia, il viso e il vestito bianco, ma sembrava che non gliene importasse niente. Leo lo apprezzò. Era più bella con un po' di fango addosso, sembrava meno una reginetta di bellezza e più una persona in carne e ossa, disposta a sporcarsi le mani. «Basta con la terra, l'hai già punita abbastanza!» le disse. La ragazza lo fulminò con lo sguardo. «Vattene!» aveva gli occhi arrossati dal pianto. «Stai piangendo?» constatò stupidamente Leo. Vederla in quello stato gli tolse il vento dalle pale dell'elicottero, per così dire. È difficile rimanere arrabbiati con qualcuno che piange. «Non sono affari tuoi!» ribatte lei. «È un'isola grande! Trovati un altro posto dove stare! Lasciami in pace!» fece un vago cenno con la mano verso sud. «Vai di là, magari!» «Niente zattera magica», disse Leo. «Non c'è un altro modo per abbandonare l'isola?» «Ma quanto pare no!» «E cosa dovrei fare allora? Starmene seduto sulle dune di sabbia finché non muoio?» «Non sarebbe male!» La ragazza gettò a terra la paletta e imprecò contro il cielo. «A parte il fatto che non può morire qui, giusto? Zeus, non è divertente!» «Non può morire qui?» Leo era confuso. «Aspetta un attimo!» La testa gli girava come un albero motore. Non riusciva a interpretare quello che aveva detto, come quando sentiva gli spagnoli o i sudamericani discorrere in spagnolo. Sì, riusciva a capirlo più o meno, ma suonava così diverso da quello che aveva parlato lui in famiglia, quasi fosse un'altra lingua. «A questo punto avrei bisogno di qualche altra informazione», protestò. «Non mi vuoi fare i piedi e va bene. Neanch'io voglio rimanere qui. Ma non ho intenzione di andarmene a morire in un angolo. Devo lasciare quest'isola! Deve esserci un modo! Per ogni problema c'è una soluzione!» La ragazza rise con amarezza. «Non deve essere da molto che sei al mondo, se ci credi ancora!» Leo sentì scorrere un brivido lungo la schiena. Sembravano coetanei, ma si domandò quanti anni avesse in realtà quella ragazza. «Hai accennato a una maledizione!» la incalzò. Lei piegò le dita, come se si esercitasse in una tecnica di strangolamento. «Sì! Non posso lasciare Ogigia! Mio padre Atlante ha combattuto contro gli dèi! E io ero dalla sua parte!» «Atlante il titano?» Lei alzò gli occhi al cielo. «Sì! Razza di...» Qualunque cosa stesse per dire si trattenne. «Sono stata rinchiusa qui, dove non potevo provocare guai agli dèi dell'Olimpo!» «Poi circa un anno fa, dopo la seconda guerra dei titani, gli dèi hanno giurato di perdonare i loro nemici e di concedere un'amnistia!» «Ma a quanto pare Percy gli ha fatto promettere...» «Persy!» la interruppe Leo. «Persy Jackson!» La ragazza strinse forte gli occhi. Un lacrimone le rigò una guancia. Leo era sorpreso. «Persy è venuto qui!» Lei conficcò le dita nella terra. «Io... io pensavo che mi avrebbero liberata!» «T'osavo sperare!» «E invece sono ancora qui!» A quel punto, a Leo tornò in mente tutto. La storia doveva essere un segreto, ma ovviamente al campo si era sparsa in un baleno. Percy l'aveva raccontata ad Annabeth. Mesi dopo, quando lui era sparito, Annabeth l'aveva raccontata a Piper. Piper l'aveva raccontata a Jason e... Percy aveva raccontato di essere stato su un'isola. Aveva incontrato una dea che si era presa una cotta gigantesca per lui e voleva farlo rimanere lì, ma alla fine lo aveva lasciato andare. «Tu sei quella ragazza!» disse Leo. «Quella che si chiama come la musica caraibica!» Un luccichio omicida balenò negli occhi della ragazza. «Musica caraibica?» «Esatto! Reghe?» Leo scosse la testa. «Merenghe? No, aspetta, ora ci arrivo!» Schioccò le dita. «Calipso!» Percy ha detto che eri fantastica. Ha detto che eri dolcissima e servizievole. Non che...» La ragazza balzò in piedi. «Sì? Niente!» concluse lui. «Tu saresti dolce se gli dei si dimenticassero di liberarti come promesso!» domandò Calipso in tono deciso. «Saresti dolce se ti prendessero in giro spedendoti un altro eroe, ma un eroe che è come te!» «È una domanda una volta entrato, perse il filo dei propri pensieri. Le pareti erano blocchi di cristallo variopinto. Tende bianche suddividevano la grotta in più stanze con comodi cuscini, tappeti intrecciati e vassoi di frutta fresca. Scorse un'arpa in un angolo, un telaio in un altro e una grossa pentola dove bolliva lo spezzatino, che riempiva l'aria di un profumo squisito. La cosa più strana? Le faccende si sbrigavano da sole. Gli asciugamani fluttuavano per aria, piegandosi e accattastandosi in pile ordinate. I cucchiai si lavavano da sé in un labello di rame. La scena gli fece tornare in mente gli spiriti invisibili del vento, che gli avevano servito il pranzo al campo Giove. Calipso era al labello, a togliersi la terra dalle braccia. Gli lanciò un'occhiata torva, ma non gli urlò di andarsene. Era come se la rabbia le stesse prosciugando l'energia. Leo si schiarì la gola. Se voleva che quella ragazza lo aiutasse in qualche modo, doveva essere carino con lei. Allora, capisco perché sei arrabbiata. Probabilmente non vorrai mai più vedere un altro semidio. Immagino che non ti sia andata giù quando... Percy ti ha lasciato. Lui è stato solo l'ultimo, ringhiò Calipso. Prima di lui è stata la volta di Drake il pirata. E prima ancora di Ulisse. Sono tutti uguali. Gli dèi mi mandano i più grandi eroi, quelli di cui io non posso fare a meno di... innamorarti, concluse Leo. E poi loro se ne vanno. Calipso annui. Le tremava il mento. È questa la mia maledizione. Speravo di essermene liberato ormai, ma eccomi qua. Blocata ancora oggi già dopo tremila anni. Tremila? Leo si sentì formicolare la bocca, come se avesse mangiato caramelle frizzanti. Li porti bene? E adesso... l'insulto peggiore di tutti? Per prendermi in giro. Gli dèi mi spediscono qui te. Lo stomaco di Leo ribollì di rabbia. Certo, se al suo posto ci fosse stato Jason, Calipso si sarebbe innamorata di lui. Lo avrebbe supplicato di rimanere, ma lui avrebbe fatto lo splendido sostenendo di dover tornare i propri doveri. E se ne sarebbe andato spezzandole il cuore. Per lui, la zattera magica sarebbe sicuramente arrivata. Ma Leo era l'ospite irritante di cui Calipso non riusciva a liberarsi. Non se ne sarebbe mai innamorata, chiaro? Perché lui non era alla sua altezza. Non che gliene importasse qualcosa. Calipso non era comunque il suo tipo, era troppo indisponente, bella e... beh, non importava. Ok, ti lascerò in pace, disse Leo. Mi costruirò qualcosa da solo e lascerò questa stupida isola senza il tuo aiuto? Calipso scossi il capo, sconsolata. Non capisci, vero? Gli dèi si fanno beffe di tutti e due. Se la zattera non compare, significa che hanno chiuso Gigi. Sei bloccato qui, proprio come me. Non potrai mai andartene.